Stai per partire Balotelli, 23 minuti, Taram si allarga, vuole la palla, poi Balotelli dice vai in mezzo che tanto tiro, Orsato fa rispettare la distanza, parte Mario, bellissimo questo tiro! La spinta fatica, poi rimane il primo gol, non è Milan, la palla, non è sportivo quello che fa Chirico, allora, gol di quasi nel stesso secondo, la Juventus e il Milan, non è gol del Cagliari. Apre ancora perdita il seminale, andiamo ad Armo Italia! Ancora lui, l'ex socatone del Milan, ancora lui, che grande acquisto, grazie che ce l'avete lasciato, grazie Gagliari, grazie Barba, sempre lui! Andese Barba! E poi Barba il tiro! E se lo merita questo Barba! E se lo merita Barba! Molinaro ex Juve, non ve lo dice, ma Molinaro ex Juve! Molinaro, proprio lui! Gioisce in un modo che molto... Tu lo direggiavi, Chirico Molinaro, quando era nella Juventus, tra l'altro, lo direggiavi! Scavi in questo momento il tempo! Rami in avanti! È finita Torino, 2-1! Noi sappiamo solo rubare! Sì, bravo! Bravo! Ed è corretto questo! Noi sappiamo solo rubare! No, Marcello, non è che ti devi offendere! No, sono incavotissimo! Ah, no, no, c'è cacà, però hai il vantaggio gonzato! Tre minuti di recupero, uno è già passato! Marcello, non è che ti devi offendere se non vi danno un rigore contro che c'è! Non è giusto! Poi scusa! A mettere sempre in dubbio le ritorno da Juventus sono di volta! Questo risultato fa piacere, per mille motivi! Ci ha fermato Fanno, però c'è la rivoluzione! Io credo che per loro sia brutto vincere così! Per me no, no, per noi piace rubare e vincere così! Ma ribadiamo, poi lo faremo vedere anche nel replay nella moviola umana!